Buonasera proprio di Facebook, YouTube, Twitter, Messenger e Skype. E film bravo, un'altra chat che poi vi farò vedere. Stiamo qui a fare quella sorpresa che io vi ho detto vi faccio una sorpresa. Vi faccio una sorpresa e la sorpresa è arrivata. Signore e signore stiamo andando a trovare due amici che si hanno affittato la casa, stanno a cuore di si simate e belli, stanno proprio a cuore di questi ragazzi. Li voglio mandare a trovare questi due amici, vediamo chi sono. Noi andiamo a trovare, non li facciamo. Ecco qua. Noi andiamo a bussare, venite, venite, venite. Non corre la zia, la telecamera, la telecamera. Non dico, mettete sempre che mi guardi, zio. Capito? Stiamo bussando, veniamo di giro. Aprite. Signore e signore, i nostri amici di Facebook, guardate chi è questa sorpresa. Eccola qui, la nostra Mariana. Guarda la Mariana, un attimo ora, zio, un attimo. Guarda. Entra, zio, entra. Il nostro proprietario, il capo dei capi, Tonio. Eccolo lì. Ciao Tonio, buonasera. Siamo in diretta. Siamo in diretta, eh. Questa è la cucina. Questa è la cucina. Eddi, inquadrati tutta la cucina. Questa è la casa di Marianne Attona, la nuova casa. La sorpresa. Eddi, inquadra bene, zio, che se tu l'hai ripresa, eh. Vai. Eddi, vai. Eccolo. Questa è la cucina. Andiamo dal salone che... Salone ancora in fase di... In fase... Aspetta un attimo. In fase di allestimento. In fase di allestimento. In fase di allestimento. In fase di allestimento. Salone. Eddi, vedi. Fase di allestimento. Vai. Eddi, guardarmi tutti in questa piana, Eddi, oggi. Ciao. È troppo veloce con la mamma. Sì. Guardate questa finezza. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda questa finezza. Ma questa finezza mi piace. Allora. Guarda. Guarda, guarda. Questo. Allora. Questo è in fase di allestimento. Andate qua. Vabbè. Come va a fare la salone? Sì. Sì. È linde, è linde. Allora guarda anche la saletta. Siamo mamma. Questo è stoccante. Ragazzi, mi faccio vedere il do, che vedo come mi piace a me. Io ce lì, voglio fare il scarf e prima o poi lo farò. Lo farò. guardate qua se non potessi fare schiaffessi il padiglio guardatemi guardate qua non potessi essere caditi così che non può crescere ragazzi guardate qua ragazzi andiamo adesso andiamo guardate Popola eh non è finita aspettate Popola di pensare quindi questa ci vuole andate a corrido eh si 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 Popola venite qua siamo ancora in due vieni Popola andate questo è un cuore di due Popola guarda 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 non fate guarda un attimo viene Vici ancora in fase di allestimento e poi andate il bagno di Antonio il bagno di Antonio entrate questo è il fase di allestimento il bagno di Antonio e il bagno di Antonio e la doccia sta di là questa è la doccia questa è la doccia 4.000 doccia per favore l'armatietto e poi faccio il tuo aspetto posso? non ti metti più alto ok ok che cosa ci vuole che amere sta Mariana chiedete qua Mariana andate a Mariana e non sapete chi si sta allepianto la camera dei bambini la camera dei bambini ragazzi la camera dei bambini no io già salto i bambini no 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 che ti ha fatto i bambini scusatemi ma non ricordo la camera dei bambini un poco sotto sopra ma tutta l'armatietà guarda qua sotto sopra vai Mariana guardami la camera guarda qua guardate che spazio guarda qua aria aria ma ma alla fa aria fa fritta chiusura aria è un gel dai guardate questa è la camera rimaniamo qua il dog aspettate il dog si sono andate a presto ragazzi guardate il parato dire quello che ho detto che mi piace questo parato mi piace a sola questa mi piace vediamo come la cera in giallo ragazzi non è finito non guardate perché adesso è il bacone non è finito non possiamo sfidare c'è anche il terrazzo non possiamo andare c'è un terrazzo grandissimo piove non possiamo uscire i mogeli non si vede proprio un grandissimo terrazzo grande guardate come stanno belle guardate come stanno belle guardate come stanno belle guardate come stanno belle stanno una bellezza stanno sissimati una ragazza guardate la faccia come si sente Maria come ti senti? dimmi la verità benissimo ti senti più bella ti si mansa se non la mangiare ci voleva ci voleva ci voleva proprio andiamo dal nostro masso Maria tu dici sempre qualcosa se no la vedete in quadrati dici sei contento? vai a dici vai a dici eccoli qua eccoli qua eccoli qua ora siamo tutti qua ah questo è un scema poi dopo ti dico una cosa non ha detto andiamo dal capo casa Antonio come ti sei come ti sei in questa casa può seriamente questo c'è un discorso sereno si si va ma non ci lascia più sta sempre con noi perché avevate dubbi parlate sempre popolo salutate salutate tutti quanti vai ragazzi ciao ciao